una buona serata a tutti voi come sempre ben ritrovati qui all'appuntamento con angoli alle 19 puntuali e altrettanto puntualmente io vi ricordo come ogni sera il nostro indirizzo di posta per restare sempre in contatto con la nostra redazione basta inviare una mail ad angoli chiocciola espansione tv punto it subito l'ospite che è arrivato questa sera qui nei nostri studi saluto e ringrazio mattia cattaneo per essere qui ciao mattia ciao dolores e grazie a tutti grazie per l'ospitalità allora tu sei qui questa sera tu sei un poeta uno scrittore e sei qui per raccontare di un bellissimo lavoro di un romanzo che qui lo mostro e le stelle brillano ancora da dove vuoi partire per raccontarlo allora partirei innanzitutto dicendo che io ho iniziato a scrivere poesia ho realizzato tre sillogi poetiche tre raccolte poetiche tra il 2016 e l'inizio del 2018 la prima raccolta si intitola dritto al cuore sono poesie romantiche poesie d'amore essenzialmente ed è del 2016 è stato un po il mio avvio alla poesia quindi un qualcosa di relativamente recente il 2017 invece è arrivata un'altra raccolta poetica la luna e suoi occhi dove ci sono poesie più legate alla propria interiorità proprio vissuto alla malinconia nostalgia quindi tematiche un po più profonde se vogliamo più interiori e poi nel 2018 inizio 2018 tracce di me che vuole essere una sorta di raccoglitore una sorta di la chiusura di una trilogia poetica ecco quindi tu sei romantico e attento all'interiorità sì potremmo dire che è una giusta definizione e durante poi la pubblicazione di tracce di me mi è venuta in mente questa storia che appunto ho pubblicato a fine 2018 prima delle festività natalizie dal titolo e le stelle brillano ancora dove si parla anche qui di sentimenti ma anche di legami forti quelli che che scavano dentro di noi per starci un po fino alla fine e ho utilizzato due donne due protagoniste che sono una nonna e una nipote quindi c'è un legame molto forte tra queste due protagoniste perché non si vedono da molto tempo nonna hildegarde da una parte e elsa gruber sua sua nipote e ho deciso tra l'altro di ambientare questa storia in germania ma come mai questa ambientazione soprattutto la scelta di due figure femminili come protagoniste allora ho deciso di ambientare in germania perché la storia ha uno sfondo storico ben preciso che è quello del muro di berlino nonna hildegarde rappresenta il passato sarà lei che racconterà ad elsa come si è svolta una parte della sua infanzia della sua adolescenza perché elsa arriva lì dopo un matrimonio terminato e lì un po in preda ai dubbi vuole un po staccarsi dal diciamo così dal caos della città lei viene da berlino e si rifugia invece a schwerin a questa piccola cittadina del menkleburgo appunto in germania per ritrovare un po se stessa per ritrovare un po un po la pace che che le mancava che le mancava certo e lì in punto lo incontra nonna hildegarde e dovrà fare i conti può anche con un mistero con un segreto che non svelo ovviamente certamente no e appunto questo questo mistero questo segreto alle sue radici proprio durante l'epoca del muro di berlino quindi ho messo un po documentato a fondo su sulle condizioni di vita di molte persone che magari volevano scappare dall'est perché schwerin si trovava proprio nella parte est del muro di berlino e volevano appunto scappare dall'est per raggiungere l'ovest quindi due mondi contrapposti che io ho cercato di analizzare e poi di mettere in evidenza all'interno all'interno del libro ecco mattia scusa perché scegliere un periodo storico così complesso così importante anche per comunque andare a posizionare storicamente il tuo romanzo allora io ho sempre appassionato sono appassionato di storia di arte e via dicendo e il muro di berlino è una parte secondo me della storia che non è stata ancora ben approfondita magari nei romanzi troviamo moltissimi libri saggi e approfondimenti su questo tema però nei romanzi che io sappia non meno meno esattamente rispetto magari romanzi ambientati durante la seconda guerra mondiale oppure legate la prima guerra mondiale quindi ho scelto questa questa storia di queste due donne come dicevo prima ildegaard che rappresenta il passato e elsa invece che rappresenta il presente e andare un po a scavare nella nella storia perché la storia comunque fa parte fa parte di noi quindi non dobbiamo dimenticare il passato anzi dobbiamo ricordarci finché magari certi errori non non avvengano quindi non possiamo prescindere dalla storia dal nostro passato esatto non dobbiamo anzi dobbiamo non dobbiamo e quindi ho cercato ecco di far leva su questo su questo sfondo storico preciso che mi è colpito fin dall'inizio e da lì poi è nata questa storia in questi racconti come ho detto anche nella scelta dei personaggi e tutto quello che tu metti nel nel tuo lavoro c'è te lo chiedo per curiosità anche qualche cosa di autobiografico o che in qualche maniera ricorda anche la tua giovane esperienza di vita ci sono dei richiami magari a delle immagini delle situazioni oppure invece da un mondo più più romanzato allora tra l'altro è il mio primo romanzo quindi mi sto facciando da poco questo nuovo genere rispetto alla poesia dove invece c'è stato qualcosa di autobiografico indubbiamente certo nel romanzo invece ho molta più inventiva più fantasia quindi cerco di far leva su un qualcosa di inventato come appunto la storia in sé che si è mescolata invece con qualcosa che è realmente esistito e che è realmente succeduto come quello appunto del muro di berlino ho messo in evidenza tra l'altro e poi da qui il titolo e le stelle brillano ancora perché nonostante tutto nonostante tutto quello che ci accada dobbiamo sempre sperare un po romanzo di riconciliazione ma una riconciliazione che non avviene solo tra una nonna una nipote che non si vedono da molto tempo e qui i legami si erano un po raffreddati nel corso degli anni ma è anche una riconciliazione con se stessi con gli errori che si sono fatti nel passato e che magari si ritrovano nel presente quindi è quello di guardare oltre perché nonostante tutto quello che ci accade le stelle ci sono sempre a brillare e meno male quindi mattia per forza ti devo chiedere tu e lo ribadisco nella tua giovanità che senso dai al concetto di riconciliazione solo un ritrovarsi un riappacificarsi o c'è anche altro secondo me in questo libro è presente una riconciliazione che non avviene solo tramite un abbraccio magari tra una nonna e un nipote o un trovare l'amore come Elsa troverà l'amore a raggiungendo Schwerin con l'altro personaggio Thomas che poi l'aiutante diciamo così di Elsa nella scoperta di quello che è la verità Elsa fa un po' i conti con se stessa nel senso che fa proprio i conti con se stessa e vuole riconciliarsi dentro lei è proprio devastata dentro perché è stata abbandonata non ha una madre non ha un padre ha solo una nonna che appunto va a trovare quindi vuole in qualche modo sperare che il domani sia migliore quindi ecco riconciliarsi anche un po ascoltare meglio se stessi e quindi anche per questo le stelle brillano ancora lo mostro ancora a favore della nostra camera ma c'è un altro elemento se non sbaglio importante all'interno di questo romanzo che è la natura sì che senso ha un altro elemento importante è la natura anche perché io ho scritto nelle varie poesie molto scritto molto legando i miei versi all'ambiente al paesaggio appunto alla natura la natura qui è importante perché è come se accompagnasse no si accostasse un po con i personaggi è come se i sentimenti ma anche gli atteggiamenti dei personaggi loro stati d'animo andassero di pari passo con non so le nuvole del cielo piuttosto che il sole quindi è un qualcosa di particolare che ho voluto inserire all'interno del romanzo è un altro aspetto importante legato a quello della natura l'aspetto poetico che in qualche modo è presente all'interno del libro anche perché ci sono due parti in cui ho inserito delle poesie brevi che sono haiku sono delle delle poesie appunto molto brevi in stile giapponese questo perché un personaggio all'interno della storia non lo svelo è un personaggio che ha scritto delle poesie su dei su dei quadernini quindi ecco la poesia c'è sempre all'interno c'è una ragione per la quale ti rifai al mondo alla dimensione giapponese o è un caso no è un caso è un sì ho scelto proprio delle poesie brevi appunto i cosiddetti haiku anche per questione di brevità anche perché è difficile molto spesso conciliare il romanzo e la poesia perché sono due generi e questa è la domanda che mi hai rubato volevo proprio chiudere visto che abbiamo due minutini a disposizione proprio con questo tu parti con la poesia da buon romantico come tu ti sei descritto e poi arrivi all'esperienza del romanzo come accade questo passaggio e soprattutto come comunque queste due cose perché lo stai dicendo ho inserito comunque delle poesie perché rimangano seppur brevi ecco com'è il collegamento tra questi due mondi ma potrei dire all'inizio opposto quello che mi ero immaginato no quindi la poesia è un genere a sé a volte un genere di nicchia poco capito il romanzo invece una volta che uno ha la trama e riesce quindi magari a capirne subito il senso e così via proprio capito scrivendo questo romanzo che in realtà la poesia e la narrativa in questo caso la prosa si parlano ci sono delle prose poetiche ci sono degli scritti appunto in forma narrativa che però al loro interno hanno degli aspetti poetici quindi secondo me poesia e romanzo possono convivere assieme e chissà poi battuta conclusiva cosa arriverà dopo e le stelle brillano ancora allora al momento sto facendo un calendario per varie presentazioni nel mio territorio anche nelle chiese e ho iniziato già a scrivere qualcosa che vedrà la luce magari poi successivamente quindi ne riparleremo assolutamente io ringrazio mattia cattaneo per essere stato qui per essersi raccontato grazie davvero e grazie anche a voi come sempre ritorniamo tra pochissimo